Ha lasciato il carcere di Forni per far ritorno a casa in regime di arresti domiciliari. Attenuazione della misura cautelare per Fiorenzo Zoccola dopo l'accoglimento dell'istanza presentata dal suo legale Michele Sarno. Il RAS delle cooperative di Salerno, nei suoi due interrogatori, ha raccontato dei legami tra il mondo della politica e le imprese, in particolare della garanzia di poter lavorare a Salerno in cambio del sostegno elettorale. E l'imprenditore ha tirato in ballo anche Vincenzo De Luca. Da lui ho avuto indicazioni di voto alle regionali le parole riferite ai magistrati che coordinano le indagini. Zoccola ha collaborato con gli inquirenti fornendo la propria versione per arrivare alla verità dei fatti, il commento dell'avvocato difensore Michele Sarno. La vicenda ovviamente sta infiammando la polemica politica. Intervenuta nella rubrica Punto di Vista, condotta dal direttore di 8 Channel 696 per Luigi Melillo, l'ex candidata sindaco Elisabetta Barone è durissima. Durante la campagna elettorale io ho incontrato diverse persone che mi hanno detto che non potevano votarmi perché avevano un voto bloccato, un voto controllato e si auspicavano che io potessi andare al ballottaggio per poter votare liberamente. Un dato che è un dato sconcertante ed è il fatto che su queste vicende, come sulle vicende della città, il sindaco tace. E sulla vicenda è intervenuto con un post anche Luigi De Magistris. L'ex sindaco di ha pubblicato nuovamente la foto di De Luca con gli esponenti 5 Stelle. Di Maio, Fico e Ciarambino cos'hanno da dire sull'inchiesta? La domanda che si è posto polemicamente De Magistris.